secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie non mi faccio le pare ho nascosto tutto ma non dico per te per me io ho lavorato sette anni su questa piattaforma tu sei da un anno ma vuoi vuoi insegnarmi come fare il mio lavoro il mio lavoro il mio colui che ha creato questo lavoro in italia vuoi farmi che cazzo vuoi marketing ho due lauree marketing master ma vattene a fanculo io non ho studiato un cazzo quando compio l'anno di twitch fa un anno festeggiamo l'anno di elena il compleanno zee una bambina zee una bambina e quando facciamo l'anno di twitch abbiamo ho confermato con lente benefico si chiamano ok dei cagnolini e dei gattini abbiamo confermato posto c'è sicuro al cento per cento e non ricordo il nome lo sei tu la strada verso casa perfetto e e e però appunto tua mamma non se ne era neanche mai accorta e quando mi son fatta la doccia addirittura che colava nero fondamentalmente da quanto da quanto si era lasciato andare no a me non mi ha mai colato nero di dosso se da mesi già già quindi boh ecco la che è probabile è probabile io sono poche boh veramente cioè il jumpscare più insulso della storia eh ma tu non hai eh tu ti cacchi addosso sei la posti eh al primo già al primo al primo jumpscare oh non me l'aspettavo oh non me l'aspettavo oh oh ma va grazie per una presenta ragione consiglita no porca devi andare avanti no non mi interessa conosci franchino no franchino magia magia dai ma porca puttana ma sei mai andato in discoteca no mai si magia magia ma quando andavo in discoteca andavo all'università e quindi andavano cioè ero più grande e non c'erano le robe meme ma non è un meme franchino no un dj incredibile anche vocali italiana io andavo tipo al the club si ci sono stati cioè si ma non esiste ma non esiste ma non esiste ma non esiste c'è un tizio che ce l'ha eh non l'ho visto solo grazie Brunello che bellissimo io avviso già che questa è la io non mi impegno non mi impegno ma c'è che che ti deve impegnare è un gioco di merda non mi impegno wow che aroma speziata la sera può uscire l'enormità e quindi andiamo il pomeriggio e si ha compiuto ovviamente gli anni ieri sera casualmente stavamo insieme raga perché stavamo guardando Silent Hill la conferenza di Silent Hill e e quindi si un attimo si è festeggiato anche ieri ma due secondi ieri era più il mood da confessionale ieri è stata una cosa cioè ultimamente un po' il mood è questo raga e da un lato bene dall'altro perché secondo me ci sta un po' avvicinando tutti quanti dall'altro bisogna non è salutarla dal punto di vista no adesso è super pulito ovviamente adesso si raga non vedete cazzo è incasinata e non lo vedete mai incasinata però si anyways esatto ti hai imparato qualche lingua ma ti pare io il tedesco ah perché poi mamma mia anche lì io avevo provato a fare tedesco alle medie a che punto arriva dai ma poi di e sanno ma proprio scusami eh scusami scusami chi lo ha esatto ma magari dillo prima perché cazzo piuttosto di dirmi stay calm non mi ha detto semplicemente yeah sorry l'altro l'altro ordine sta arrivando questo è un errore nostro non dovete pagarlo che cazzo ci vuole stay calm non c'ho ragione ma stay calm di che ma sono pa ma che stay calm quando ti sto dicendo semplicemente hai sbagliato l'ordine lui non c'ha voglia di dire frasi che fossero più lunghe i due parole queste e non c'ha voglia di dire abbiamo sbagliato l'ordine sta arrivando il vostro questo non lo pagate non c'ha voglia di dire questa frase quindi il massimo che potete dire è stato stay calm ma se tu mi dici a me stay calm dopo che ho ammazzato dieci bambini prima dopo che ho ricevuto un messaggio del cazzo dal possessore di parla di merda non mi dici stay calm già si 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 mi amo probabilmente nel momento in cui sono uscita dalla vagina avrei pensato mamma mia che brutta speriamo che riuscirà a trovarsi un lavoro decente che cazzo ne so si 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 ma perché non ti ho uscito dalla vagina e vabbè che differa cioè che quindi se esci dalla se ti esci non lo so devo amare di più qualsiasi cosa dove adesso non sentite neanche voi raga ciuccia perché mi avete fatto cambiare sta roba perché uno è allora aspetta qual è il due e qual è il cinque Daudimi non posso non posso provare prima prima il system perché se c'è un errore un'altra volta io ci ho anche pensato ho detto quasi quasi provo il gioco prima ma perché porco dio qua si sta cambiando ancora si è ricambiato come finire non le unghie mai la gente intorno a te non ti permette di aprire le ferite wow eh già ti diverti a far venire la violenza a persone a centenna di km di distanza lo so raga scusatemi bravi un po' di violenza aiuta come è stato scoparsi Michelle incredibile comunque puoi dire porco Livio sto facendo una compilation Livio è d'accordo parco Livio vabbè comunque cringe eh è cringe quindicimila euro cos'è quindicimila euro che cosa terzo ospitato è quindicimila euro cringe qualsiasi cosa è cringe cringe bro cringe quindicimila euro può essere cringe vuoi un cracker no grazie sono apposta è senza sale senza senza ho mangiato come un budello senza ho mangiato come un budello senza niente sei venuta a consolarmi no no mi dice you're too nervous sei troppo nervosa ma mentre se ne sta andando dimmelo in faccia puttana di merda dimmelo in faccia damma dimmelo in faccia capito no mo stava di mentre se ne stava andando mi ha detto in faccia puttana di merda che puoi raga anche lì però ammetti che aveva ragione io nervo raga mille mimo scusatemi michel ha vinto michel sei michel si si no no chiudere che puoi avere sei michel pare di sì michel michel unzica michel 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 sono lord michel michel puttini ah ci hanno azzeccato svizzero sono svizzero michel puttini più svizzero di quella stronza traditrice della paga michel si deve appoggiare a me per fare delle live è veramente scarso ma è veramente scarso è veramente scarso allora io ho detto fino a due secondi fa non lo stremiamo non lo stremiamo non lo stremiamo basta darmi ste robe ho mangiato come un cane prima che hai mangiato ho mangiato come si chiamava quella roba non mi ricordo più paparò 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 puttane puttane con riso io sono la palla non sono un cane ma capisco hai capito che no no palla tornò no era la mia volevo giocarci io non ho finito di giocarci questa è e quindi mi aveva un po' fatto alterare questa cosa qua perché poi la palla aveva parlato con la persona aveva parlato la palla quindi si era chiedita la palla quindi che cazzo lascia andare questa cazzo di palla non importa andiamo avanti e arriviamo a quest'ultimo ristorante altra metafo da capire che cazzo di palla che cazzo di palla